Benvenuto nel video tutorial Calibrazione bussola di Demeter. L'operazione è semplice. Vediamo come si fa. Per iniziare, connettiamo Demeter via Bluetooth all'applicazione. In che modo verifichiamo la calibrazione di Demeter? Tramite il menu FastPad nella modalità automatica. La funzione Calibrazione ci permette di lanciare un test di calibrazione della bussola. Durante il test di calibrazione, il dispositivo inizierà a girare su se stesso per verificare il proprio stato. Se andrà a buon fine, possiamo continuare senza problemi con le scansioni. In caso contrario, l'app Demeter ci avviserà del mancato orientamento corretto del dispositivo, offrendoci la possibilità di eseguire ugualmente le scansioni, ma con il nord errato. Se necessario, un pop-up ci suggerirà di calibrare lo strumento. Premiamo quindi su Accetta. Procediamo con la calibrazione manuale. Non appena il dispositivo inizierà a lampeggiare di giallo, iniziamo a far roteare la testa di Demeter. Manteniamo la rotazione anche con la luce gialla fissa. Quando il led inizierà a lampeggiare di blu, posizioniamo Demeter in verticale. La bolla e i tasti laterali dovranno essere rivolti verso l'alto. Procediamo con la rotazione di Demeter su se stesso anche con la luce blu fissa. Continuiamo in questo modo fino a quando il led non diventerà verde. Qui si conclude questo tutorial sulla calibrazione della bussola. Sei curioso di scoprire le altre funzionalità di Demeter? Scopri di più e dai un'occhiata agli altri tutorial, oppure scarica le guide dal nostro sito. Grazie per l'attenzione e al prossimo video! Grazie per l'attenzione e al prossimo video!